Il piano della rete ospedaliera siciliana è stato consegnato al ministro alla salute Beatrice Lorenzin. L'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi ha aggiornato la nuova bozza del piano che nella sua prima stesura a settembre aveva suscitato tante polemiche per la declassificazione del maggiore di modica ad ospedale di base. Tra le novità introdotte nel piano sanitario che il ministro Lorenzin ha firmato, proprio la classificazione invece oramai ufficiale dell'ospedale maggiore come Spock. Lo stesso sottosegretario alla salute Davide Faraone aveva preannunciato la nuova classificazione dell'ospedale modicano nel corso della sua visita di sabato a Ragusa. Ha soddisfatto il parlamentare Nino Minardo che ha tenuto le fila della vicenda tra Palermo e Roma e che aveva anticipato pure lui la notizia a seguito proprio del suo incontro a Modica con lo stesso Faraone. L'ospedale di Modica, così come quelli di Vittoria e Ragusa, è dunque classificato ufficialmente come Spock e per il territorio ciò si pareserà in un'offerta sanitaria adeguata che qualifica la professionalità di tutti gli operatori della sanità iblea, ampliandone l'obiettivo di crescita. Il ministro alla salute Lorenzina ha mantenuto quindi l'impegno importante che aveva assunto in sede di correzione di un piano che si sarebbe rivelato se adottato nella sua prima stesura penalizzante per l'ospedale di Modica. Il piano sanitario regionale approvato dal ministero passerà poi alla commissione sanità Lars per il parere obbligatorio e infine alla giunta che dovrà approvarlo con decreto. Grazie. Grazie.